Io mi ero ormai allontanato da quelle anime negligenti, cioè gli spiriti pigri e bell'acqua, e seguivo da vicino i passi della mia guida, Virgilio, quando, alle mie spalle, indicandomi e puntandomi con il dito teso, una di quelle anime si mise a gridare dicendo Guardate, sembra che il raggio del sole non si veda riducere, non traspaia, dalla parte sinistra di quello che sta sotto, cioè di quello dei due che cammina più indietro, cioè Dante. E sembra quindi che egli si muova e si comporti come un uomo vivo e non come un'anima a quale siamo noi. Quando sentii queste parole, volsi lo sguardo per vedere indietro, e vidi le anime guardare fisse, con stupore, me, proprio me, e la luce che veniva impedita, interrotta dal mio corpo, formando un'ombra dunque alla mia sinistra. Perché il tuo animo si lascia distrarre a tal punto, disse il mio maestro, che rallenti i tuoi passi dietro me? Che importanza può avere per te che ti importa ciò che queste anime mormorano e bisbigliano sul tuo conto? Continua a seguirmi e lascia parlare la gente. Comportati come se tu fossi una torre solida e immobile, che non inclina mai, né a destra né a sinistra, con la propria cima, per quanto i venti possano soffiare contrari. Poiché accade sempre che l'uomo nel quale di continuo un pensiero germoglia sopra un altro pensiero, quell'uomo finisce sempre per allontanare da sé la conquista della meta, dato che l'impeto del nuovo pensiero indebolisce quello precedente. Che cosa potevo rispondere al mio maestro se non eccomi ti seguo? Così infatti risposi, un poco soffuso in volto di quel rossore che talvolta rende l'uomo scusabile, cioè degno di essere perdonato. Nel frattempo, lungo la costa del monte, in direzione trasversale, vidi che avanzava un gruppo di anime, un poco più in alto rispetto a noi, cantando il salmo miserere, soffermandosi con pietà a ciascun verso di quel salmo. Quando quelle anime si accorsero che io non lasciavo passare attraverso il mio corpo i raggi del sole, cioè che avevo un corpo solido fatto di carne, il loro canto si trasformò in un O, lungo e profondo. E due di quegli spiriti, in qualità di messaggeri, corsero incontro a noi e ci chiesero informateci, dateci nota della vostra condizione, condizione che è così eccezionale. E il mio maestro rispose «Voi potete ritornare e riferire a coloro che vi hanno mandato da noi che il corpo di costui è ancora vivo ed ancora qui con la sua carne terrena». Se quelle anime si sono fermate perché hanno visto l'ombra di Dante, come penso che sia, hanno ora dunque una risposta, con la mia, più che soddisfacente. Lo accolgano dunque con gentilezza ed onore, perché egli potrà tornare di vantaggio a loro, cioè a causa del suo riferire ai vivi di loro e dunque del soffragio delle preghiere. «Non tanto rapidamente vidi mai stelle cadenti attraversare il cielo sereno all'inizio della notte, né al tramonto del sole, quando fa caldo, lampi fendere le nuvole d'agosto, quindi non tanto rapidamente, quanto lo furono quelle due anime di messaggeri nel tornare, in men che non si dica, su alla loro schiera, da dove prima, cioè, si erano mosse. E, raggiunto il gruppo, ritornarono indietro, verso di noi, questa volta anche con gli altri, cioè con le altre anime. Come una schiera che si lancia in corsa sfrenata, quindi più che velocemente. «La folla di anime che si sta per accalcare intorno a noi è parecchio numerosa e vengono qui per chiederti di pregare per loro», disse Virgilio. «Tu però continua a procedere, non fermarti, ma invece presta ascolto pur camminando. O anima che compi questo viaggio per purificarti ed ascendere così ai cieli. Con quello stesso corpo con cui sei nata, in terra, gridavano venendoci incontro. Rallenta un poco i tuoi passi, guarda se mai riconosci qualcuno di noi in modo da riportare notizia di lui, cioè di questo che hai riconosciuto, nel mondo dei vivi, sulla terra. Perché continui a camminare? Perché non ti fermi un poco? Noi anime siamo state tutte strappate alla vita, cioè siamo morte, con un atto di violenza e fummo peccatori fino all'ultimo istante di vita. In punto di morte, però, la grazia divina che illumina ogni intelletto ci rese consapevoli dei nostri peccati, in modo che, pentendoci noi dei nostri peccati e perdonando anche quelli altrui nei nostri confronti, uscimmo allora dall'esistenza terrena, cioè morimmo, riconciliati con Dio. Dio che ci consuma ora col suo grande desiderio di essere visto, contemplato. Ed io gli dissi, dissi allora a questa schiera di anime, per quanto guardi con attenzione i vostri volti, non riconosco alcuno di voi, ma se voi desiderate qualcosa che rientri nelle mie possibilità e che io posso dunque fare, o spiriti destinati alla salvezza eterna, voi ditemelo e io lo farò in nome di quella pace che, al seguito di una guida tanto saggia, cioè Virgilio, sto cercando, mi ha dato cercare attraverso questi regni, tre regni dell'Ottratomba. ed uno di quegli spiriti cominciò a parlare, ciascuno di noi ha fiducia del tuo buon servigio, che dici, senza bisogno di giuramenti, a meno che, naturalmente, una qualche impossibilità, indipendente da te, non vada a impedire in qualche modo di realizzare il tuo volere, o giusta intenzione. Perciò io, Jacopo del Cassero, che parlo da solo, prima degli altri, ti prego, se mai tu possa rivedere la marca anconetana, cioè quel paese che si estende tra la Romagna e il regno di Napoli di Carlo d'Angiò, di essere così cortese da esortare i miei parenti e conoscenti nella città di Fano, cosicché per me si preghi Dio a mio beneficio, affinché possa io così entrare in purgatorio ed espiare le mie gravi colpe. Nacqui in questa città di Fano, ma le ferite profonde e mortali dalle quali scorgò il sangue nel quale trovava supporto e risiedeva la mia anima, mi furono inferte nel territorio di Padova, là dove io ritenevo di essere più al sicuro. Fui ucciso per volere di Azzo Ottavo, Signore d'Este, che mi aveva in odio molto più di quanto ne avesse diritto. Ma se io fossi fuggito invece verso, cioè in direzione di Mira, quando fui raggiunto dai miei assassini nelle vicinanze di Oriago, mi troverei ancora allora nel mondo dei vivi, cioè sarei salvo. Invece corsi verso una palude, la palude del Brenta, e le canne palustri e il fango mi intranciarono la fuga a tal punto da farmi cadere e in quel luogo vide allora il mio sangue formare in terra un lago, cioè morì. poi parlò un altro spirito. Possa realizzarsi quel desiderio che ti spinge a salire l'alto monte del purgatorio e cerca e cerca dunque anche tu di aiutare il mio di desiderio con la tua pietà religiosa. Il mio è il casato dei Montefeltro, sono un buon conte. La mia vedova Giovanna o gli altri miei parenti non si ricordano di me e non si prendono cura di pregare per me. Per questo motivo cammino triste fra costoro a testa bassa. E io gli risposi chiedendogli quale forza o quale strano caso ti trascinò così lontano dalla battaglia di Campaldino che non si conobbe mai dove tu trovasti sepoltura. Oh, mi rispose quell'anima, appena a sud dei Monti del Casentino scorre nella valle un torrente che si chiama Archiano e che nasce sull'Appennino sopra l'eremo di Camaldoli nel punto in cui questo fiume perde il suo nome poiché si getta nell'Arno arrivai io durante la battaglia di Campaldino ferito alla gola mentre fuggivo a piedi e bagnavo la terra con il mio sangue in quel punto i miei occhi si velarono e la mia voce venne meno e nel nome di Maria morì pentendomi e là caddi morto ed abbandonai il mio corpo ormai inanimato quanto sto per dirti è verità su quello che accadde in seguito e tu questo riferirai al mondo tra i vivi l'angelo di dio dopo che io ebbe abbandonato il mio corpo prese la mia anima mentre il suo nemico il diavolo dell'inferno gridava la creatura del cielo perché mi privi di quest'anima che è peccatrice e dunque mia tu prendi con te e porti via la parte eterna di costui solo per una lacrimuccia che solo per quella mi sottrae la mia preda sia ma io farò del suo corpo cioè di quanto di lui resta ormai qui sulla terra ciò che io voglio tu conosci come nell'aria si raccoglie il vapore acqueo per formare le nubi e questo vapore acqueo si trasforma di nuovo in acqua non appena salendo raggiunge gli strati più freddi dell'atmosfera quel demonio unì la sua volontà malvagia che aspira solo al male all'intelligenza e agitò il vapore acqueo e il vento con quei poteri che gli derivano dalla sua natura diabolica non appena infatti giunse la notte coprì tutta la valle dal monte pratomagno alla giocaia di camaldoli catena dell'appennino coprì quel demonio di nebbia e riempì il cielo che sovrasta quella valle di densi vapori a tal punto che l'aria satura di nubi si convertì subito in acqua cadde la pioggia e fluì poi verso i fossati quella parte di acqua che la terra non fu più in grado di assorbire e appena si riversò nei fiumi più grandi quell'acqua si convogliò verso l'arno che sfocia nel mare con tanta velocità che nessun ostacolo riuscì a trattenere tale foga delle acque il mio corpo congelato per il freddo fu trovato dall'archiano in piena alla sua foce e l'archiano poi spinse il mio corpo nell'arno e sciolse dal mio petto la croce che avevo fatto delle mie braccia sul punto di morte quando il dolore del pentimento mi aveva sopraffatto la corrente allora mi fece rotolare contro le sponde e sul letto del fiume poi le acque dell'arno mi copersero cioè copersero nel mio corpo e mi avvolsero con i loro altri detriti quando sarai tornato nel mondo dei vivi e ti sarai riposato di questo lungo cammino nell'aldilà disse un altro spirito dopo le parole del secondo ricordati di far pregare anche per me che sono la pia siena mi diede i natali mentre trovai morte nella maremma come sa bene colui che prima prima di uccidermi mi aveva messo l'anello nuziale prendendomi in moglie di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.